Amici della Spresa dell'Orto, siamo qui a Fattoria del Poggio con Luca Pantini. Questa è un'azienda intanto a filiera completa, nel senso che dal seme, fido al prodotto pronto, confezionato per essere venduto, facciamo tutto qui. Dal 1994 fino a oggi ho sempre cercato di creare dei nuovi prodotti, degli imballaggi che fossero ecocompatibili, addirittura ecosostenibili. L'ultimo packaging che ho inventato, che ho pensato, era quello delle maschette, di sostituire la plastica, il prodotto tagliato, di sostituire la maschetta di plastica con una maschetta in cartoncino, carta riciclata, ed è a sua volta riciclabile e compostabile. Ho ritenuto opportuno evitare di mettere un'etichetta adesiva, risparmiando carta, inchiostri e adesivi e stampare con una stampante particolare direttamente sul film, con un inchiostro che ha base di cera e resina, quindi è un inchiostro del tutto completamente naturale. Inquadrando questo QR code si ottiene tutta la filiera produttiva di questo prodotto, lo smarino, dalla nascita dal seme fino al prodotto tagliato. Credo che questo sia un passo avanti per il futuro. Questa nuova confezione è stata lanciata, è stata messa in vendita nella catena di supermercati, la COP Centro Italia, e ha riscontrato un grandissimo successo. L'assortimento è compreso da basilico, salvia, rosmarino, menta, mentuccia, alloro, odori per arrosto, insomma tutto l'assortimento che facevamo prima sulla plastica, adesso è fatto in una confezione ecosostenibile ed ecocompatibile. Grazie a tutti!